Audio Jungle Ecco, l'uomo ha scoperto il fuoco un milione e mezzo di anni fa ed ha fatto subito comunità e cucina attorno al fuoco. Adesso noi vedremo come funziona Ophir sia come centralità, come fuoco che raduna le persone attorno e la cucina. Partiamo con l'accensione. Abbiamo la legna di vite sotto che è importantissima ed è la legna piccola e poi abbiamo la quercia, abbiamo il carpino, cioè abbiamo la legna del nostro appennino ed useremo anche il carbone. Mentre il fuoco si accende, vedete questo strumento importantissimo che è la paletta. Legna di vite, rosmarino, permette anche una leggera affumicatura ai prodotti che noi andiamo a cucinare. L'elemento indispensabile è la boccia dell'olio perché la possiamo tenere appoggiata qui sul piano di cottura. Adesso mettiamo l'olio sulla piastra, fungiamo bene bene la piastra in modo che siamo pronti a partire.